ciao ragazzi oggi vedremo la differenza tra melodia armonia e ritmo che sono le tre caratteristiche principali di un brano o della musica allora differenza l'ho già ripetuta però la ripeto semplicemente la melodia è una nota singola l'armonia o gli accordi è la stessa cosa sono più note e sonate simultaneamente il ritmo invece è quello che dalla manovestra posso un batterista il ritmo può essere oppure oppure queste sono le cose principali della musica senza questo non potremmo avere un brano musicale perché se ci pensate prendiamo qualsiasi brano alba chiara alba chiara vediamo melodia armonia o accordi e ritmo melodia respiri piano per non far rumore melodia quindi questa è la melodia primo elemento secondo elemento gli accordi quindi abbiamo una melodia e degli accordi quasi sempre tranne nel canto a cappella dove si usano sempre delle c'è la oddio anche lì c'è la polifonia formata da più da più più note c'è tante persone fanno diverse note lì forma polifonia però in realtà con l'accordo è sempre meglio e poi c'è il ritmo che la cosa più importante una cosa è fare una cosa è fare oppure facciamo facciamo sempre il bacchiare con un altro ritmo a seconda del ritmo il brano prende una diversa svolta la cosa più importante però rimane sempre la melodia perché quella che si canticchia poi puoi fare il brano in diverse versioni jazz blues funky quello che vuoi però la melodia è quella più importante yesterday è stata fatta in mille versioni però rimane sempre nella melodia mi rimane sempre quella di ora fa fai gli esteri non presi facciamo rock la melodia rimane sempre quella quindi melodia armonia e ritmo sono le cose più importanti della musica se avete domande sono qui ciao ragazzi